Oggi andiamo a vedere la seconda parte della lezione intitolata Se davvero puoi credere Neville qui dice È quasi imbarazzante parlarne alla piattaforma Ne ho parlato e quelli che erano presenti mi hanno criticato senza pietà per aver raccontato la storia Ma non l'ho raccontata per vantarmi L'ho raccontato per spiegazione come funziona la legge Funziona Non è necessario escogitare i mezzi per raggiungere la fine Avendo assunto il fine Il fine escogiterà i mezzi Una serie di incidenti attraverso i quali vi muoverete Vi muoverete attraverso un ponte di coincidenze Che vi porterà da dove avete assunto lo stato Al suo compimento perché andate verso il fine Dimorando nel fine Poi succede qualche cosa di strano nel mondo E questo ponte appare Si cammina attraverso il ponte di incidenti Che porta alla fine Nel 1949 uno dei grandi scienziati scoprì un certo principio in fisica E disse alcune cose Ma molto prima che lo scoprisse e lo raccontasse in questo strano modo Gli dissi delle critiche di coloro che sentivano quello che dicevo Dicevano Quell'uomo è pazzo Ho detto che posso andare nel tempo In uno stato che non è ancora realizzato E posso vivere in quello stato Come se fosse vero E poi posso tornare a questo stato Che ho chiuso per un momento E poi in un modo che non conosco Vado avanti attraverso una serie di eventi Che portano al compimento di quello stato E un uomo a Milwaukee Era il capo di questo dipartimento chimico Di un'enorme, enorme organizzazione Alice Charnels Il loro grande fisico Dove mandavano tutti i tipi di campioni d'acqua Da tutto il mondo per le sue analisi Per spiegare perché c'erano sedimenti Sulle enormi grandi turbine Che stavano facendo Ha analizzato l'acqua E poi ha mandato indietro la sua analisi d'acqua Perché l'acqua raccoglie i piccoli sedimenti Attraverso la terra su cui scuore E quindi se portano certe cose Beh, si aggrappa all'interno delle cose E quindi cerca di spiegare perché Così quando ho raccontato Quello che vi ho appena detto Mi ha risposto Non si può fare Abbiamo una legge nella scienza Che chiamiamo entropia L'entropia è Non si può cambiare il passato Il passato è inalterabile L'uomo va avanti nel tempo Con un passato inalterabile Vi ho detto Si può cambiare il passato L'uomo può rivedere il passato E cambiarlo come se non fosse mai accaduto Verrà il giorno in cui Tutti cambieranno l'intero passato E lo rivedranno Semplicemente Arribate Non si può fare Io sono uno scienziato Sono un luminare Della mia professione Beh è stato abbastanza grande Da mandarmi una copia Di quello che è uscito Nella Science Bulletin Circa due mesi dopo Che ha lasciato Milwaukee A lui gli era appena stato Dato il premio Nobel Per ciò che ha scritto Nel 1949 Il suo nome è Richard Feynman Ora professore di fisica Al Caltech E in questa rivista Mesi dopo aver raccontato La storia a Milwaukee Scrisse di una particella atomica Conosciuta come positrone Disse Il positrone Parte da dove non è stato E si muove Fino a dove Era un momento prima Arrivando lì Viene rimbalzato Così forte Che il suo senso Del tempo Viene invertito E si muove Di nuovo Dove non è stato Questo è il professor Feynman Del Caltech Io gli ho detto Vado avanti nel tempo Fino al luogo Che non ho ancora visitato Fisicamente E mi chiudo semplicemente Nella sensazione Del desiderio realizzato Non l'ho ancora realizzato Fisicamente Ma vado avanti Nella mia mente Nella mia immaginazione Nello stato E parlo con i miei amici Del desiderio realizzato Come se fosse vero Poi apro gli occhi E sono sorpreso Di scoprire Che sono seduto Su una sedia Dove ero un attimo prima E quello che ho appena fatto È negato Dai miei sensi Ma stranamente Tutto il vasto mondo Si rimescola E forma Un ponte di incidenti Attraverso il quale Mi muovo Verso il compimento Di quello stato In cui sono stato Quindi ha scritto Parte da dove Non è stato E si sposta Dove era Un istante fa Arrivando lì Viene fatto Rimbalzare così forte Che il suo stesso Senso del tempo Si inverte E poi ritorna Dove non è stato Beh Io Lo sapevo Misticamente Non sono uno scienziato Non potevo spiegarlo Il piccolo Positrone Lo fa come L'ha descritto Nel 1949 E per questo L'anno scorso Le è stato dato Il premio Nobel Hanno Aspettato Tutti questi anni Per confermarlo E ora È stato confermato Fotograficamente In tutti i laboratori Che hanno potuto Effettivamente Testare E quell'uomo Aveva ragione Ma io avevo ragione Prima Però Non avevo Nessuna particella Per provarlo So solo Quello che ho fatto Mi mettevo Semplicemente In uno stato E vedevo Il mondo Come L'avrei visto Se fosse stato vero Guardavo E vedevo I miei amici Che sorridevano Con me Perché Erano felici Che avessi raggiunto Ciò che Avevo detto Che avrei raggiunto E così Sorridevano con me E poi Ho aperto gli occhi E i miei amici Non sono presenti Sono di nuovo Nella mia stanza Ed è la stessa Vecchia stanza Gli stessi limiti Lo stesso tutto Ma poi In un modo Che non conoscevo Questo piccolo Ponte di incidenti E stato costruito E sono andata avanti Per adempiere A ciò che avevo fatto Sono andata avanti Ho fatto quello Che volevo fare E poi sono Ripartito Da dove Non ero fisicamente E ho accelerato Fino a dove Ero fisicamente E poi Sono stato rimbalzato Così forte Che mi sono girato Nel mio Senso del tempo E sono tornato indietro Per realizzare Dove ero stato Nella mia immaginazione Ora la rivista scientifica È del 15 ottobre Si chiama Science Letter Potete prenderla in biblioteca È di Richard Feynman 15 ottobre 1949 E quando gli è arrivata E quando gli è arrivata Perché è abbonato Nella Science Letter Me l'ha mandata E l'ho ricevuto Verso dicembre di quest'anno Ma io Gliene avevo Già parlato a maggio Non ho ricevuto Il premio Nobel Mi avrebbero dato Del pazzo Mi Permetto di dirvi Ci sono stati di coscienza In cui tutti i visionari Sono considerati pazzi William Blake La ho contente E io sono stato considerato pazzo Fin da bambino Perché vedevo cos'è Che non riuscivo a spiegare Non avevo le parole Per spiegare queste cose Che ho visto Ma sapevo che funzionavano Sapevo solo che funzionavano Le provavo E funzionavano Se c'è la prova di una cosa Ha davvero importanza Cosa ne pensa il mondo Se c'è la prova Beh, io avevo le prove Ma non potevo spiegarle scientificamente Sapevo solo che funzionavano Quindi vi dico Tutto è possibile A colui che crede E quell'uomo è uguale a Dio Solo la limitazione è posta su Dio Come uomo Perché Con Dio tutto è possibile Senza restrizioni Immaginare dallo stato di immaginazione Divina È automatico È fatto Ma quando Dio si limita all'uomo E scende al limite dell'uomo Allora impone a se stesso Chiamato uomo la fede Così senza la fede ci viene detto È impossibile piacergli E chi vuole arrivare a Dio Deve prima credere Che Dio esiste Ed egli ricompensa coloro che lo cercano Leggilo nell'undicesimo capitolo Il sesto versetto di Ebrei Egli ricompensa a tutti coloro che prima credono che Egli esiste Devi prima credere che Lui esiste Bene Vi mostrerò chi è Lui è la vostra meravigliosa immaginazione umana Non posso osservare l'immaginazione come faccio con gli oggetti nello spazio Io sono la realtà che si chiama immaginazione Come posso osservarla? Posso solo osservare le mie creazioni Non posso osservare il mio sé Il creatore Ho prodotto una cosa che mi rivela chi sono Ed è stato il figlio Lui è l'unico essere al mondo che può veramente portarmi al mio essere E mostrarmi chi sono Io sono Dio padre Io produco tutte queste cose nel mondo E non riesco a trovare il mio sé Non posso osservare il mio sé Immaginazione Perché io sono la realtà che si chiama immaginazione Anche se sto producendo tutte queste cose nel mondo Come fantasie improvvise Si riversano tutte fuori di me Non sempre riconosco il raccolto Ma non posso negare che ho dovuto piantarli per poterli raccogliere Ho piantato tutto nel mio mondo Tutto sta tornando a casa per raccogliere Quindi non riconosco la realtà che sono Perché è invisibile Agli occhi dei mortali Ma ho creato uno stato Ed era il figlio Che un giorno sarebbe stato davanti a me E mi avrebbe chiamato padre E allora avrei saputo chi sono Ed è mio figlio E chiama Dio E solo Dio Padre E il suo nome è Davide Quando Davide si trova davanti a te E ti chiama padre Allora E solo allora Saprai chi tu sei Ecco come ti sei trasformato completamente nell'umanità Affinché l'umanità possa diventare te E tu quando sei diventato umanità Eri Dio Posso dirtelo? Ora una signora mi ha scritto la settimana scorsa Ha detto di aver fatto due sogni A due giorni di distanza L'uno dall'altro In uno c'era un enorme auditorium Pieno di gente E lei sapeva immediatamente Come se le passasse davanti come un film Quello che tutti avrebbero dovuto sperimentare Sapeva anche che aveva sperimentato ciò che tutti avrebbero vissuto E quindi non l'avrebbe più sperimentato Due giorni dopo si trovò in questo enorme fola Migliaia e migliaia di persone E c'erano migliaia e migliaia di colombe bianche E sapeva senza alcun dubbio che le colombe bianche Avrebbero ucciso ognuno di loro E sapeva anche che anche lei avrebbe avuto quell'esperienza Che era stata uccisa E che non sarebbe stata più uccisa Ora ascoltate queste parole Nel trentaduesimo capitolo del Deuteronomio Io sono io E non c'è Dio al di fuori di me Io uccido e rendo vivo Ferisco e guarisco E non c'è nessuno che possa liberarsi della mia mano Deuteronomio 32-39 Sì, ha sperimentato la scrittura in modo glorioso Dici che qualcuno è stato ucciso? Sei stato ucciso Qualcuno è stato ferito? Sei stato ferito Tutte le cose che leggi in quel glorioso libro Ed è il libro più orribile del mondo Se lo prendi come è Lo vede il mondo Sono lì nell'Antico Testamento L'ha sperimentato E ora sei nel nuovo E ora puoi reavere questo ricordo E lei aveva la memoria che tornava Ha vissuto questa morte Ha vissuto l'orrore del passato Non lo sperimenterà più È sull'orlo del risveglio del Dio dentro di lei Lo stesso Dio Non ci sono due dei C'è un solo Dio Ascolta O Israele Il Signore Nostro Dio Il Signore è uno Un solo corpo Un solo spirito Un solo Signore Un solo Dio E Padre di tutti Quindi Tutti vengono riportati Nell'unico corpo Perché un solo corpo è caduto E l'unico corpo Cadendo Si frammentò Nell'innumerevole Quello che noi chiamiamo persone E quell'unico corpo Cominciò a risorgere Perché uno si alza E divenne il centro di colmagnete Che richiama E uno dopo uno Viene richiamato Nell'unico corpo L'unico spirito L'unico Signore L'unico Dio E Padre di tutti Ma noi siamo individualizzati E vi dico anche Che se siete Con l'unico corpo E con l'unico spirito E con l'unico Signore Dio E Padre di tutti Non perderete La vostra identità Tu e io Ci rallegreremo Alla fine Come fratelli caduti Nell'unico corpo Accresciuto dall'esperienza Di questo mondo di morte Bene Questa sera Fate in modo Che sia una serata pratica Sono stato spinto A farlo Perché Nelle ultime due settimane Ho ricevuto Così tante chiamate Chiamate da New York Chiamate da questo E chiamate da quello Cosa devo fare? Beh Se mi chiamano Da questi luoghi lontani Allora la stessa cosa Deve avvenire qui Non disperate Non accettate Quello Che leggete Sui giornali Che c'è una recessione O non riuscite A trovare un lavoro O che avete Perso soldi Sullo stipendio Non fatelo Abbiate un sogno Entrate nel sogno E conservate queste parole Di Shakespeare Ci è stato insegnato Dallo stato Primordiale Che colui Che è È stato voluto Fino a quando Lo è diventato Lo troverete Nel primo atto Quarta scena Di Antonio E Cleopatra Ora voi direte Dopotutto L'ha scritto Shakespeare Shakespeare aveva la visione Non dite solo Shakespeare L'ha scritto Ma anche che ha avuto la visione Queste sono le parole di Cesare Che è salito in alto Quindi stasera sappiate cosa volete Nessuna modifica Sappiate solo quello che volete Supponete di averlo Vedete nell'occhio della vostra mente Ciò che vedreste se fosse vero Vivete in quello stato Proprio come se fosse vero E poi andate per la vostra strada Dormite stanotte come se fosse vero Svegliatevi domani E se il momento lo nega Tornate sulla trave E continuate su quella trave Non girate a sinistra Né a destra Conservate queste parole Tenetele E vivete semplicemente in base ad esse E non potete fallire Ora entriamo nel silenzio E io mi fermo qui Vi aspetto domani Con una nuova E avvincente Meravigliosa lezione Grazie a tutti Ciao Ciao